Ciao ragazze e ragazzi, eccoci a commentare. Matrimonio a prima vista sei mesi dopo. Cosa sarà successo alla nostra coppia più discussa? Ovviamente parlo di Fulvio e Federica. Nell'ultimo confronto finale entrambi avevano consegnato le Fedi. Lei non la indossava più da tempo e avevano deciso di non continuare la loro storia. Questa esperienza per loro è stata molto complicata. Fulvio si era messo in gioco in tutto e per tutto. Lei invece fredda come un ghiacciolo, gelando e bloccando l'entusiasmo del povero Fulvio. Lei nel loro matrimonio non ci ha mai creduto, o meglio provato, e pertanto arrivano le delusioni, i litigi e la rottura anticipata dell'esperienza. Ma ecco che arriva il colpo di scena. Sembrerebbe che Federica abbia capito i suoi sbagli e riflettuto sul suo comportamento, anzi addirittura ammette di mancarle il suo maritino. Si sono rivisti fuori da programma, dove questa volta lei si è dimostrata più complice e da qui la decisione di riprovarci e di darsi una seconda possibilità. Fulvio è stato sempre attatto dalla sua sposa, pertanto credo che abbia avuto la sua rivincita, tanto che i due si baciano. Quindi la nostra coppia ha deciso di frequentarsi, spinti anche dai rispettivi familiari che li hanno invitato a rifletterci per bene. Quindi al momento Fulvio e Federica vogliono costruire un rapporto più importante e più solido. Che dire, nonostante il nostro Fulvio sia stato in un certo senso umiliato in vari modi durante il loro percorso, ha deciso di concedere a Federica un'altra chance. Speranzosi nella loro riconciliazione, non ci resta che augurargli tanta felicità. Sì, ma come andrà a finire, visto che al momento ci stanno riprovando? Ci vorrebbe adesso matrimoni a prima vista un anno dopo, chissà se lo faranno. Comunque, voi cosa ne pensate? Commentate pure. E se vi siete persi i video precedenti, andatele a vedere sul mio canale. Io adesso vi saluto e a presto con un nuovo video. Bye bye! Ciao! Ciao!